Grazie per la visione l'uscita del Sinibu che trocca a te pastore, pastore, ci scocciano per pastore non ho molte cominci, ci trocca a su pastore, ci trocca a su che la cazzo è sprecante oggi aveva l'initi di costruire il Sinibu pastore trocca al Sinibu troppo a su non si è riuscita 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 ringrazio per l'initi di Ciccia si ferma l'initi di Ciccia non si è riuscita colpo di testa di Pansaletti tra destra per Cassani l'altre cattivo il cross di Cassani colpo di testa, mancato da Nocevino restringe pastore una procura mandata strappa corso quindi l'intimbi si è riuscita tra sostenere la E' avanti per il movimento di Pastore, cerca il trening, Pastore tunnel, azione per Stavanti, Pastore in avanti per Hernandez, Hernandez si allunga, Pastore, il cross per la Micoli, posizione di Quartone, un po' di scuola di Scuola, dietro la monta, un po' di scuola di Cesar Chiesa, c'è Micoli, controllo del podone, l'è inseguito da Lucia, Quartone Prova a girarsi, alla porta porta si è inserito a Lucerino, Pastore, Pastore porta palla, prova ancora lo scanno con Micoli, riva sul fondo all'inviato, Hernandez, una respinta di Stankovic, provvidenziale, Palermo, e ancora in avanti, nuovo a Klicic, il punto di tempo per i Cazzani, e avanti indietro, Vittoric, Vittoric, in sinistro, prestito, Pastore, Hernandez, inizio, 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 Pastore inizio, 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 Astor, Pastore, inizio, pastore, inizio, pastore, inizio, pastore, inizio, pastore, Pastore, inizio, inizio, pastore, si fa vedere il pastore, c'è spazio, Rotter, Rozzaletti c'è la faccia a sinistra, Rozzaletti con un dueci mezzo al centro, lo carica a testo, protoco, con Lucerone, allora c'è l'esterno della lega. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.